Gianmarco Centinaio, perché la Liga Nord non piace questo sblocca Italia approvato al Senato del Governo Renzi? Ma perché loro avevano promesso che questo sarebbe stato un provvedimento che avrebbe rilanciato il Paese, un provvedimento con delle proposte nuove, innovative, che avrebbe creato nuovi posti di lavoro, che avrebbe permesso alle aziende di ripartire i soliti sogni di Renzi. E poi adesso che ci troviamo all'atto pratico, ci ritroviamo ancora con il solito provvedimento che dà milioni e milioni di euro in giro per l'Italia a pioggia, che non permette ai senatori e ai parlamentari di capire come mai sulle autostrade c'è questa liberalizzazione, questa situazione un pochettino strana, che fa sì che i rifiuti dal sud arrivino ancora una volta al nord e quindi trasformando il nord Italia, le regioni del nord, come una pattumiera del nostro Paese e quindi con tutte quelle cose, quelle azioni di politica, di bassa politica e di bassa amministrazione che venivano fatti con gli altri governi. Ancora una volta questo Presidente del Consiglio promette, fa illudere gli italiani, illude anche noi parlamentari perché ogni tanto speriamo che qualcosa di decente venga partorito da questo governicchio e poi quando arriviamo in aula troviamo le sorprese. Ormai sorprese non lo sono più, sono delle costanti e di conseguenza questo governo ancora una volta è costretto a chiedere la fiducia.